l'alba sta sorgendo salutate il nuovo giorno oggi farò un video tutorial su come farsi un'iniezione intramuscolare in questo caso col testosterone visto che un argomento caldo sul mio canale quello di cui abbiamo bisogno sarà cotone disinfettante poi potete usare le salviettine disinfettanti già fatte non cambia niente una siringa per l'insulina senza residuo fisso ago 18 g ago 25 g e andrò a spiegare il perché di queste cose vabbè ovviamente abbiamo anche la fialetta di testosterone a cui adesso andrò a togliere l'etichetta uno per non fare pubblicità a nessuna marca e due perché ovviamente avendo la fialetta così trasparente riusciamo a vedere meglio il contenuto riusciamo ad assorbire tutto meglio senza sprecare niente ma partiamo da la siringa perché io preferisco una siringa dell'insulina senza residuo fisso in questo caso da un milliletro semplicemente vi faccio vedere perché la apro uno perché è più stretta del normale per cui quando si farà pressione col dito faremo più forza e netteremo facilmente due perché il residuo non avendo residuo fisso per intenderci non so se si vede comunque c'è una beccuccio un cosettino di plastica nero qua in fondo che ci aiuterà a spingere fuori tutto il prodotto così da non sprecarne niente al contrario le siringhe normali quelle che trovate in farmacia di solito hanno il coso che spreme che si ferma qua e tutto quello che sarà nel beccuccio finale sarà sprecato e a me non piace sprecare le cose poi abbiamo un ago 20 18 g cioè sono quelli grossi grossi questa ago non lo useremo per andare iniettarci qualcosa perché è un arpione con cui si caccia le balene praticamente ma lo useremo solo e soltanto per aspirare dalla dalla fialetta perché usiamo due aghi diversi in questo caso cioè 18 g e 25 g poi per iniettare semplice perché se usassimo il 25 g per aspirare dalla fialetta faremo fatica aspira poco no è molto sottile per cui ci metteremo due anni oltre al fatto che se avete tipo il multidoso il multivia dovete andare a bucare con quel lago che già si rovinerà e poi andare a ribucarvi voi andate a fare più danni che altro invece così si aspirerà in modo estremamente facile per cui saldiamo bene lago 18 g alla seringa dell'insulina prendiamo la fialetta se qualcuno ha già provato vedrà che ogni tanto si blocca del prodotto nella parte alta per cui per farlo scendere non sprecarlo semplicemente faremo così un paio di volte finché la parte sopra sarà chiara e pulita e tutto il prodotto sarà nella parte inferiore il movimento per intenderci è simile a quello che usiamo per far scendere la barretta del mercurio nel termometro poi dovremo andare a ad aprire la fialetta è semplicemente basta fare così semplicissimo a volte magari non viene al primo colpo ma si prova un po di volte poi viene e poi col tempo si fa comunque esperienza andremo a togliere il beccuccio di protezione dalla nostra dal nostro ago dalla nostra silinga prendiamo la nostra fialetta immergiamo lago nella fialetta così semplicemente e andiamo ad aspirare tutto il contenuto se ovviamente vogliamo iniettare tutto se invece vogliamo farne metà ne aspiriamo solo metà o l'altro lo lasciamo nella fialetta che andremo a sigillare o semplicemente lo teniamo tutto nella siringa e andremo a tenere la siringa già pre riempita per la volta dopo visto non abbiamo sprecato niente adesso abbiamo la siringa riempita con il nostro prodotto andiamo a richiudere con il beccuccio di sicurezza lago apriamo la siringa 25 g che è molto più piccola per cui andremo a farci un buco molto più piccolo nel muscolo alcune persone usano anche tipo il 26 g ma noto che calcuno e alcuni prodotti ad olio che sono più densi si fa fatti faccio un po fatica col 26 g a per cui preferisco il 25 g al contrario se ci sono prodotti a base d'acqua tipo hcg eccetera si possono usare anche le gli aghi del 28 g cioè a molto più piccoli apriamo tiriamo fuori lago 25 g togliamo lago 18 g dalla siringa e andiamo a montare quello 25 g e questa è la nostra siringa pronta per essere usata ultima cosa che dobbiamo fare prima di iniettare prendere il nostro disinfettante versare un pochettino su un pezzo di cotone andare a disinfettare la pelle la cute nel posto in cui andremo a iniettare tutto io oggi per ovviamente per comodità scelgo il deltoide e non le chiappette già così molto semplice poi per i siti di iniezione ce ne sono vari c'è ovviamente del toy di ci sono i glutei o ci sono anche quadricipitis però bisogna stare un pochino più attenti dopodiché ovviamente andiamo a togliere il beccuccio di sicurezza assicuriamoci che la che lago sia ben saldato alla siringa altrimenti premendo potrebbe succedere che il lago salta fuori andremo sprecare tutto il prodotto dopodiché avvicino un po la telecamera prendiamo la nostra spalla semplicemente andiamo più o meno a fare un andiamo più o meno a fare un segnetto con l'unghia nel posto in cui vogliamo andare infilare la siringa e quando infiliamo facciamolo in maniera abbastanza decisa all'inizio perché alcune persone hanno la pelle abbastanza spessa come io e lago potrebbe fare fatica entrare per cui il primo colpo un po più decente comunque fammi vedere così forse mi metto di lato si vede meglio ok facilissimo andiamo a iniettare tutto prendiamo ancora il coso del disinfettante per chiudere un attimino il punto di iniezione tanto si blocca subito non c'è più niente da un secondo ed è tutto qui facilissimo ci mettiamo veramente 30 secondi una volta essendoci abituati non si sente alcun dolore per cui non c'è nessun bisogno di rivolgersi a qualcuno in esterno c'era un tipo un po di tempo fa che mi ha scritto no ovviamente rimettiamo il beccuccio di sicurezza al lago per non pungerci poi andiamo tutto a buttare nella spazzatura comunque dicevo c'era un tipo dicevo che mi aveva scritto un po di tempo fa che lui ogni volta per ogni iniezione si rivolgeva a un'infermiera professionista pagando ma è una spesa per me totalmente superflua visto che è veramente facilissimo e con questo tutorial penso sia ancora più chiaro non ci vuole veramente niente e dopo che lo si fa un po di volte diventa proprio una routine incredibile poi io non lo faccio mai in teoria bisognerebbe fare che dopo avere inserito la serina del mustro bisogna aspirare un pochettino per vedere se c'è sangue no per essere sicuri di non aver beccato un vaso sanguigno se non c'è nessun sangue poi si preme io di solito intanto non lo faccio mi dimentico però può essere una buona un buon protocollo di sicurezza a me non mi rimane che ricordare che quando si desidera qualcosa essere avvuoti dalle fiamme non è più così male in questo caso no perché come avete visto è semplicissimo non mi rimane che anche darvi appuntamento al prossimo video